Con molto orgoglio devo dire perché ero già venuta e avevo visto questo splendore e mi sembrava importante condividerlo con i presidenti dei parlamenti del G7 proprio perché ognuno di noi tenta sempre di far vedere il meglio del proprio paese e allora a me sembrava che qui ci fosse il meglio. E' un lavoro eccezionale che dà anche il senso di quanto l'Europa ci aiuti a tenere vivo il nostro patrimonio culturale quindi c'erano più di uno spunto per venire qui quindi siamo tutti molto contenti e continueremo questa visita fino al foro e usciremo dall'altra parte quindi vedremo tutto. Ma direi proprio di sì, una gestione molto mirata, molto intelligente, il sovrintendente Sanna sta facendo tantissimo per rilanciare questo posto ci sono tanti che vengono da ogni parte del mondo, chi magari è venuto molti anni fa non si aspetta neanche oggi di trovare una cosa così fatta bene è proprio facile anche a capire e dunque è un luogo da rilanciare e io spero che i presidenti quando torneranno a casa insomma avranno un bel ricordo e convinceranno altri anche a venire.